Buongiorno, buongiorno da Onda Tigino Apertura, torniamo a parlare del centro storico della città di Sulmona 4 mega interventi, la sovrintendenza rimette mano al patrimonio cittadino, ma sentiamo i particolari nel nostro servizio. 4 mega interventi di riqualificazione e desidi monumentali cittadini per un importo che si aggirerebbe intorno al milione di euro e il progetto della sovrintendenza delle belle arti che nelle scorse settimane ha incontrato il settore tecnico e politico di Palazzo San Francesco per illustrare le particolarità degli interventi da eseguire che riporteranno in auge il patrimonio storico della città di Sulmona. Sono 4 le aree monumentali che saranno oggetto di un'accurata operazione di restyling, l'arco di Porta Napoli che dovrà essere riportato alle origini, la chiesa di Santa Caterina in via Angeloni che sarà sistemata in toto, il tetto compreso, la rotonda di San Francesco che prevede tra le altre cose il rifacimento della scalinata e l'acquedotto medievale con il consolidamento degli archi. Almeno 3 dei 4 interventi previsti potrebbero essere realizzati entro il 2020. Lo scoglio più grande da superare il progetto che interessa la rotonda di San Francesco poiché prevede il coinvolgimento anche dei privati. Sarà nostro compito organizzare un incontro per fare il punto della situazione e delimitare il confine tra la proprietà pubblica e quella privata così da mettere tutti nelle condizioni di poter operare, assicura l'assessore comunale ai lavori pubblici Salvatore Zavarella. Nelle prossime settimane, quando i singoli progetti verranno spiegati nel dettaglio, tutto sarà più chiaro. E questa mattina la situazione degli incendi all'Aquila è sotto controllo rispetto a quella dei giorni scorsi. Le forte pioggi di ieri hanno aiutato a domare le fiamme, per questo non è stato richiesto l'intervento dei Canadair. A renderlo noto è il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Al momento sono in azione 100 vigili del fuoco e 50 alpini del nono reggimento dell'Aquila per le operazioni di spegnimento e bonifica a terra, oltre a 58 unità di protezione civile. Operativi anche funzionari e tecnici del Comune per fornire tutto il supporto necessario, mentre un elicottero effettua lanci puntuali d'acqua sugli ultimi fumaioli. Lavori di pubblica utilità per i detenuti meritevoli via libera alla convenzione tra il Comune di Sulmona e il carcere. Ma sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Ripulitura delle strade in occasione di eventi particolari, manutenzione dei giardini e delle aree pubbliche, pulizia del verde, le siti archeologici. Sono queste alcune delle attività che il Comune di Sulmona e la Casa di Reclusione hanno individuato per i lavori di pubblica utilità da sottoporre ai detenuti meritevoli, quelli cioè che stanno portando a compimento il percorso di rieducazione sociale. Si tratta di lavori non retribuiti ma utili alla comunità. Un'attività simile fu posta in essere nel luglio del 2012, nell'era Federico, quando era assessore alle politiche sociali, Mariella Iommi. Il Comune quindi è dato seguito al percorso avviato con la Casa di Reclusione, con delibera di giunta numero 145 del 31 luglio scorso, sindaco e amministratori di Palazzo San Francesco hanno approvato lo schema di convenzione per i lavori di pubblica utilità. Toccherà ora al primo cittadino sottoscrivere materialmente l'accordo. L'intento della Casa di Reclusione è quello di promuovere e realizzare interventi di politica attiva del lavoro a favore di lavoratori e persone appartenenti a categorie in condizioni di svantaggio e che hanno difficoltà a inserirsi nel mondo del lavoro impiegandoli in attività di lavoro di pubblica utilità per interventi di natura straordinaria. E' un grande risultato, per questo ringraziamo il Comune e il Sindaco Namaria Casini per la sensibilità mostrata, dichiara il direttore del penitenziario Peligno Sergio Romice spiegando che la convenzione non è altro che un'opportunità in più da cogliere e da valutare per una categoria di detenuti che volontariamente e senza retribuzione potranno mettersi a disposizione della comunità nell'ottica della rieducazione e del rinserimento sociale. Le misure anti-Covid a Castel di Sangro, il modello fai da te per il rientro in classe. Sentiamo tutto. Al Patini Liberatore a settembre saranno gli studenti a gestire gli ingressi, le uscite e gli spostamenti. Una formula pensata per implementare le competenze di cittadinanza di tutti e di ciascuno. Si è costituito in meno di due giorni un gruppo di 20 tra studentesse e studenti che garantiranno in servizio di volontariato per favorire il rispetto delle procedure Covid a scuola e il benessere a scuola. L'idea coinvolgente della preside Cinzia D'Altorio ha incontrato la voglia di donarsi di tanti giovani fra cui studenti che hanno già collaborato con la protezione civile locale attivissima ma soprattutto attenta al coinvolgimento delle nuove leve. Una mini protezione civile di comunità che verrà formata da esperti esterni prima dell'inizio delle lezioni e garantirà la sicurezza e rispetto delle procedure anti-Covid già programmate dallo staff. Ingressi e uscite e spostamenti dei 600 studenti presenti in istituto verranno vissuti in sinergia. Il progetto sarà riconosciuto ai volontari come credito come percorso di cittadinanza e costituzione. La dirigente è orgogliosa dei suoi studenti, invitamenti e associazioni a farsi avanti per mettere in palio per ciascuno una piccola borsa di studio come ulteriore riconoscimento per i servizi reso alla comunità. Operazione Turismo Tutto in una brochure, il Comune di Pettorano Sul Gizio presenta l'iniziativa. Gaetano Trigilio. Il Comune di Pettorano Sul Gizio, uno dei borghi più belli d'Italia all'interno della riserva naturale Monte Genzana Alto Gizio, traccia un bilancio più che positivo per quanto riguarda la presenza turistica in questa prima parte dell'estate e registra il tutto esaurito per il mese di agosto. Il Comune ha realizzato in collaborazione con le associazioni e le attività commerciali e turistiche una brochure, la brochure guida che racchiude tutte le notizie riguardanti la storia, le tradizioni e la cultura del borgo e tutte le informazioni sulle attività che offre il Paese a partire dalle visite guidate al borgo, ai monumenti, alle attività sportive, alle escursioni a piedi e a cavallo, mountain bike e molto altro, fino ai corsi di cucina. Per illustrare meglio la brochure abbiamo ascoltato il vice sindaco di Pettorano, Augusto De Pampires. Abbiamo pensato di dare la possibilità a chi viene di conoscere quello che si potrà fare nel borgo. Una proposta a 360 gradi di relax in mezzo alla natura della riserva naturale. Io credo anche più di 360 gradi perché voi avete allargato la vostra ipotesi anche ad altre zone che non sono il territorio del vostro comune ma sono l'intero comprensorio della Valle Pedigna. Perché questa scelta? Perché riteniamo che noi dobbiamo offrire la possibilità di vedere l'intero territorio, il nostro comprensorio. Tant'è vero che nella brochure guida abbiamo inserito anche la città di Sulmona che è una città d'arte ovviamente, l'Alto Sangro con le sue montagne che possono essere visitate anche in questo periodo oltre che chiaramente l'inverno per lo sci, per le motoslitte e anche i paesi artiborghi più belli d'Italia come Paceendro con la zipline, bussi per quanto riguarda le canoe. Si può andare in canoa pensate? Si può andare in canoa, quindi si può andare sul fiume Tirino, ovviamente abbiamo pensato anche ai siti archeologici di Canzano e di Corfinio, abbiamo pensato alle cantine vinicole di Vittorrito e di Pratola, quindi abbiamo inserito dentro questa guida anche cosa il turista una volta arrivato nel borgo di Petrolano sul Cizio può fare nel comprensorio. Vogliamo lanciare un messaggio a potenziali turisti? Il messaggio è proprio questo, passare un soggiorno a Petrolano in pieno relax, in piena sicurezza per le famiglie in particolare, quindi adulti e bambini dove si può trovare insomma tutto quello che necessita, che fa piacere e che quindi accontenta chi viene a farci visita e sicuramente dopo questa esperienza potrà tornarci di nuovo. Entrando all'Aquila, la fontana di Fonte Secco torna all'antico spentore grazie all'unione del proloco, noi abbiamo intervistato il presidente provinciale sumonese Raffaele Di Santi. Il sogno diventa realtà per l'Umpli, l'Aquila, per la città dell'Aquila con il restauro della fontana di Fonte Secco dopo il sisma del 2009, il taglio del nastro ci sarà il prossimo 6 agosto, l'emozione è già palpabile avendo in mano il nastro tricolore che sancirà la rinascita di un luogo simbolo del patrimonio storico-culturale del capologo di regione. Con Raffaele Di Santi, presidente Umpi, l'Aquila, cerchiamo di riavvolgere il nastro. Che lavoro c'è stato dietro per addivenire il restauro di questa fontana? Grazie Andrea, sì, eccolo il nastro ed è proprio nella tua trasmissione circa un anno fa che abbiamo annunciato di fare quest'opera nella città dell'Aquila, abbiamo annunciato di procedere ad un restauro conservativo perché volevamo donare un ricordo indelebile a questa città così fortemente colpita dal sisma, un ricordo indelebile del cuore delle prologo d'Italia perché ti ricordo che abbiamo messo a disposizione questa cifra che nasce dalle donazioni di tutti i volontari d'Italia che nell'immediato del sisma del 2009 hanno raccolto in maniera così generosa e sono stati investiti nell'immediato per risolvere l'emergenza anche delle prologo disastrate appunto quindi acquistando cucine mobili, camper, pulmini e poi finita ecco l'emergenza immediata sono stati di fatto reinvestiti ed ecco che abbiamo la liquidità di circa 38 mila euro e un anno fa annunciammo questo importante lavoro. Non pensare, tornare a pensare alla tragedia del terremoto del 2009 perché diciamo purtroppo tutto è nato da lì e noi abbiamo scoperto fra l'altro che Raffaele Di Santi è stato insegnito anche della medaglia di bronzo a valore civile per il servizio reso come volontario diciamo nel post terremoto. Allora che valore assume questo restauro alla luce del vostro impegno in quel momento così tragico? È proprio nel privato che mi ha colpito la possibilità e mi ha dato la spinta ulteriore di promuovere questa iniziativa all'Aquila perché come tutti i volontari di protezione civile che hanno dato tanto, tantissimo, io sono solo una goccia nel mare, uno come tanti che ha scavato, che si è impegnato, si è dato da fare. Io ho collaborato con il gruppo di protezione civile del comune di Sulmona e sono tutte persone stupende e le ringrazio e le saluto. E l'insegnamento più grande che ho avuto in quel periodo è stato proprio quello di donare e quello di dedicarsi per gli altri che poi di fatto è anche uno dei principi del prologo, del volontariato o dell'associazionismo in genere. Quindi diciamo si sono fusi in una persona sola in questo caso questi principi ed avendone la possibilità ed ecco qua che abbiamo proposto questo progetto. Porniamo a Sulmona, sequestra il negozio di lingerie perché la moglie spende troppo, una simpatica trovata umoristica, ma sentiamo meglio. Al Patini Liberatore a settembre saranno gli studenti a gestire gli ingressi, le uscite, gli spostamenti. Una formula pensata per implementare le competenze di cittadinanza di tutti e di ciascuno. Si è costituito in meno di due giorni un gruppo di 20 tra studentesse e studenti che garantiranno il servizio di volontariato per favorire il rispetto delle procedure covid a scuola e il benessere a scuola. L'idea coinvolgente della preside Cinzia D'Altorio ha incontrato la voglia di donarsi di tanti giovani, fra cui studenti che hanno già collaborato con la protezione civile locale, attivissima ma soprattutto attenta al coinvolgimento delle nuove leve. Una mini protezione civile di comunità che verrà formata da esperti esterni prima dell'inizio delle lezioni e garantirà la sicurezza e rispetto delle procedure anti-covid già programmate dallo staff. Ingressi, uscite e spostamenti, le 600 studenti presenti in istituto verranno vissuti in sinergia. Il progetto sarà riconosciuto ai volontari come credito, come percorso di cittadinanza e costituzione. La dirigente è orgogliosa dei suoi studenti, invitamenti e associazioni a farsi avanti per mettere in palio per ciascuno una piccola borsa di studio, come ulteriore riconoscimento per i servizi reso alla comunità. A questo punto facciamo il punto della situazione degli incendi dell'Aquila con Marinella Bezzo. Dopo sei giorni di fiamme l'Aquila tira un sospiro di sollievo. Ieri sera è arrivata la tanto attesa pioggia. Un violento temporale sotto forma di nubifragio e grandine è scoppiato poco dopo le 19 nella zona ovest della città, proprio là dove sono scoppiati gli incendi dei giorni scorsi e i monti di Pettino e Canzatessa hanno smesso di fumare. Le vie della città sono diventate dei veri e propri torrenti e numerose strade si sono allagate. I vigili del fuoco, per assurdo impegnati nell'emergenza incendi, sono dovuti intervenire per far fronte agli allagamenti. Le temperature anche stanno dando una mano. A Pizzoli la minima registrata stanotte è stata di 9 gradi e all'Aquila 11 gradi. Nelle ore centrali dovremo assistere all'arrivo di nuvolosità da nord e nord-est che tenderà a farsi compatta. Il bilancio dei roghi finora è drammatico. 800 ettari di montagna andati in fumo, un fronte complessivo di circa 4 chilometri di lunghezza, composto da focolai isolati che hanno reso complicato un intervento omogeneo. Sul fronte delle indagini sembra che, da quando accertato, un repertatore dei carabinieri forestali, chi ha innescato l'incendio non abbia utilizzato un innesco violento, ma piuttosto o la semplice fiamma o pezzi di carta. Gli incendi non provocano solo danni alle montagne, ma ad un contorno a cui difficilmente si pensa. Prima di tutto la paura, quella degli uomini, che si sentono minacciati dalle fiamme, vedendo andare in fumo ciò che con sacrifici hanno costruito. E prima di chiudere mi invito sempre a visitare il sito internet della nostra emittente televisiva www.ondadv.tv per stare aggiornati ovviamente su tutte le notizie, davvero tutto per questa edizione. Onda Regi, come di consueto, torna questa sera alle 20.10. Grazie per essere rimasti con noi, a tutti e buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.